ciao daniel ciao gatto boy ciao che bello essere qua con voi si è sempre un piacere ciao a tutti tutto bene gatto boy sì sì tutto alla grande bene allora oggi con il vostro aiuto presenteremo ai bambini quel gioco che vedete lì dietro che bello forte mi piace topolino bene sono contenta perché questo bel play set con cinque personaggi e a me piace tanto e poi sono dei personaggi amatissimi dai bambini anche i bambini dai bambini più cresciuti come me insomma topolino esiste da da tantissimo tempo e quindi oggi apriremo insieme questa scatola siete pronti sì io sono prontissimo anche io una nuova missione per me sì insomma questa non è la gran missione gatto boy non ci sono cattivi lì in mezzo beh è meglio allora forza apriamo la scatola me la portate qua sì subito ecco qui e adesso apriamo ecco qua i nostri personaggi allora adesso io voglio sentire da daniel i nomi li conosci tutti ma certo che li conosco allora lei e mini esatto lui è pippo bravissimo lui il suo cagnolino pluto ciao bello che dolce che è pluto e poi c'è topolino ciao bambini e poi c'è paperino ciao tutti benvenuti benissimo allora le presentazioni sono state fatte ma che bello poi ognuno di loro ha un accessorio allora la borsetta di mini eh sì certo io sono una topolina alla moda tieni qua la tua borsetta ma com'è carina con un bel fiocchetto che sembrano quasi due orecchie da topolino molto carina poi per pippo abbiamo la canna da pesca prego pippo ecco qua canna da pesca per pippo sono tutti snodati e per il nostro pluto un bello osso lo vuoi l'osso pluto sii sei contento guardate quanto sono fatti bene anche pluto è snodato anche la codina è tutto contento dai allora se ti lasciamo qua mangiare il tuo osso oh così topolino fa le fotografie abbiamo una bella macchina fotografica con il cavalletto per topolino dopo ci mettiamo tutti in posa così ci fa una foto paperino invece che è un gran giocherellone sì è vero mi piace tantissimo divertirmi eh allora per te abbiamo una barchetta una piccola barchetta da fare andare sull'acqua nel ciumiciatro nel laghetto che bello mi piace tantissimo fantastico sono contenta gatto boy non hai detto niente sai quando ero piccolo guardavo sempre i loro cartoni animati quindi sono un po' emozionato adesso oh quando eri piccolo sì adesso io sono grande è vero è vero scusa hai ragione quindi ti emoziona vedere i personaggi che guardavi sempre da piccino sì è un gran piacere paperino oh piacere mio so che adesso sei molto famoso ci ha fregato il posto questo no no non vi ho fregato il posto no no ci mancherebbe ma che dici paperino c'è posto per tutti è vero è vero oh sono così carini oh come bellino questo tigrotto sei molto tenero grazie mi fai arrossire oh mamma mia insomma siete tutti molto molto smielati sono contenta che vi siate conosciuti finalmente e adesso vi saluto perché perché pluto deve mangiare il suo osso e dovete farvi le foto dovete giocare dovete divertirvi quindi salutiamo tutti i bambini ci vediamo domani con un'altra puntata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti